Ciao da Avsim! Benvenuti in un nuovo episodio di Pirlo Tactics, la rubrica di analisi tattica sulle partite della Juventus che trovate, potete sfogliare su questo canale, nella apposita playlist Avsim Tattica. Parliamo di Inter-Juventus 1-2, semifinale di andata di Coppa Italia, con l'analisi specifica e le grafiche di Pier Giorgio, caro amico, che ringrazio come sempre che fa parte della community degli abbonati, quindi intanto vi chiedo di iscrivervi al canale attivando le notifiche, ma anche di valutare i vantaggi dei piani di abbonamento spiegati qui sotto. Tra l'altro questo video esce infatti in anteprima per gli abbonati e Pier Giorgio è disponibile per voi nello spazio dei commenti per rispondere alle vostre curiosità, perplessità, dubbi, domande e qualunque altra cosa, ma solo attinente alla partita naturalmente o anche agli sviluppi tattici della Juventus. Infatti lo scopo di questa rubrica è proprio quello di cercare di spiegare dal punto di vista tattico come gioca la Juve, qual è anche l'evoluzione dei singoli, abbandonando pregiudizi ed etichette che spesso da tifosi ci capita di appiccicare ai nostri giocatori nel bene e nel male. Quindi veniamo alla partita cominciando con alcune statistiche scarne, perché purtroppo le partite di Coppa Italia, e su questo la FGC dovrebbe anche farsi due domande, non offro, non hanno copertura piena dei siti di statistica, cioè praticamente la Coppa Italia viene snobbata, anche quando è Inter-Reventus e Juventus Inter. Quindi mi sono dovuto rifare a Sofascore, che avrei potuto anche andare ad aggregare i dati dei singoli giocatori, ma ci avrei messo praticamente mezz'ora per far cosa, poi non si sa, e quindi veniamo ai dati generali che sono disponibili per di più facile consultazione, che dicono che il possesso palla è stato vinto dalla Juve ma di poco, 48 a 52, i passaggi sono stati 459 per l'Inter e 493 per la Juventus, che quindi ha giocato molto meno il pallone del solito, con una precisione nei passaggi dell'87% per l'Inter e dell'89% per la Juve, quindi è stata anche più imprecisa contro l'Inter, in una partita del genere era difficile essere più precisi. E d'altra parte i tiri totali confermano che sia stata una partita equilibrata, 11 tiri per l'Inter, di cui 5 nello specchio e 7 nella nostra area di rigore, 10 tiri della Juventus, di cui 6 nello specchio, quindi giusto uno in più, forse a legittimare il gol in più, e 4 però, solo 4 nell'area nera-azzurra. Questo anche perché abbiamo provato tanti cross, loro hanno sempre 3 dietro e questo lo diremo tra un attimo, sono stati molto abbottonati, l'Inter di Conte ieri è stata molto abbottonata proprio per non lasciare spazi, quindi era molto difficile per entrare in area di rigore. I giocatori che sono stati più coinvolti per la Juve, i 3 migliori, sono stati Alexandro con 87 tocchi e 68 passaggi, Delict con 84 tocchi e 67 passaggi, e Quadrado con 75 tocchi e 53 passaggi. Va detto che però Alexandro, pure stato più coinvolto, è stato praticamente il peggiore in campo, un po' impreciso, distratto, in alcuni casi anche pigro, ma letteralmente, veramente distratto, soprattutto distratto, caotico, confusionario, frastornato. Non ci aspettiamo da lui questo tipo di prestazioni, speriamo che possa migliorare e che sia solo un problema di scarsa tenuta fisica. Dal punto di vista più specificamente tattico, prima di entrare nell'analisi, che è quella di Pieroggio veramente molto esplicativa, chiara, quindi non vorrei anticipare troppo perché c'è già tutto lì dentro, volevo soltanto rimarcare ancora una volta come Pirlo abbia dimostrato ieri di essere un allenatore vero, cioè di saper stare in panchina a cambiare le partite, a decidere le partite. Il cambio Danilo per Bernardeschi, in tal senso, dopo l'ingresso in campo di Perisic per Young da parte di Conte, è stato illuminante ed è stato decisivo dal punto di vista tattico e dal punto di vista poi dell'arrendimento di Danilo lì dietro e di Quadrado un pochino più avanti. Anche gli altri cambi che ha fatto, seppur Tardivi hanno funzionato, per esempio un quarto d'ora in campo di Artur si è vista la differenza, ma poi anche come ha preparato la partita, la capacità di mettere in campo una squadra che non replicasse la prestazione brutta, vuota, che si era vista in campionato, ma riuscisse a reagire. E per come si era messa era diventata ancora più difficile l'esecuzione tattica del copione preparato da Pirlo, perché siamo passati in svantaggio, tra l'altro per un errore nostro. Poi ci sono stati errori loro, Young su Quadrado e ancora più bastoni per Ronaldo, che hanno ovviamente portato al ribaltone, alla rimonta. Tra l'altro da dire, e questo forse non l'ha detto quasi nessuno, che il gol di Ronaldo non era così facile, pur essendo porta spalancata sembra facile, ma non lo è, sembra facile perché è Cristiano Ronaldo. Tolto questo, la Juve è rimasta in partita, alla fine portando l'Inter sul proprio terreno, perché l'Inter non si è stanata, questo è vero, però la Juve abbassando il baricentro ha mantenuto comunque la giusta aggressività sul portatore e la prontezza di tornare in campo aperto, quindi di dispiegare le vele e di aggredire la metà campo avversaria, rimanendo sempre sul pezzo. Cioè, sembrerebbe, ma la Juve non ha realmente rinunciato a giocare. Lo dimostra anche il fatto che abbiamo tenuto il possesso, nonostante siamo stati ribassati all'indietro. D'altra parte, quando la Juve ha tenuto il possesso, ed in particolare prima di subire il gol, una situazione un po' particolare, è riuscita a fare un fraseggio prolungato ed estenuante, che toglie un po' anche di certezze, va a fiaccare l'avversario, queste sono tutte cose che fai se hai preparato bene la partita. Per non parlare delle schermature, delle coperture preventive, coperture e marcature preventive, come per esempio Kulusevski su Brozovic, che dimostrano quanto Pirlo abbia preparato bene la partita, che poi è stata eseguita bene dai giocatori, e quindi alla fine si è vinto anche per questo. Veniamo allora all'analisi dettagliata di Pier Giorgio. Partita ancora una volta a due volti per la Juventus, all'aspetto di un Inter che ha sicuramente pagato a caro prezzo un atteggiamento troppo prudente nel primo tempo. I piani tattici sono stati subito evidenti. Se da una parte c'era una Juventus più simile all'ultima versione di Genova e quindi di nuovo votata ad un uso ricorrente delle rotazioni, soprattutto dei quattro uomini più offensivi, con largo ricorso al movimento che vede Kulusevski venire incontro e McKennie buttarsi in avanti, eppure con interscambi degli esterni, ovvero sia con Quadrado e Alexandro che venivano dentro al campo e Bernardeschi e l'americano che si allargavano o viceversa, dall'altra c'era un'Inter abbottonatissima, con la chiara intenzione di lasciare l'iniziativa completamente in mano ai bianconeri e provare a non concedere campo aperto agli avversari. La Juventus affrontava la prima impostazione con delle coppie fisse. Sulla prima giocata, infatti, Bentancur andava su Vidal, McKennie su bastoni, Kulusevski si incollava a Brozovic, Bernardeschi andava su Darmian, Rabiot su Barella e Ronaldo schermava il pallone e chiunque lo avesse, prevalentemente De Frey. La Juventus era poi pronta a riposizionarsi velocemente se questa prima linea di pressione veniva superata dai nerazzurri, con Bernardeschi che andava a seguire Barella, Rabiot che si metteva più centrale e gli altri che venivano assorbiti a zona. Ma il problema era che gli uomini di Conte proprio non avevano alcuna intenzione di andare dall'altra parte, attraverso una manovra elaborata. Troppo timorosi di scoprirsi, dovendo andare alla ricerca di giocate più veloci e rischiose per scardinare l'ottima organizzazione difensiva juventina. Quindi ricorrevano a questa uscita in costruzione dal basso, che però terminava quasi costantemente con una giocata a scavalcare la terza linea bianconera nella ricerca di un attacco alla profondità da parte delle punte. Se queste ultime riuscivano a tenere palla e creare i presupposti per una situazione di pericolo, ecco che le mezzali e gli esterni salivano anche loro a supporto, ma il tutto sempre senza correre il rischio di sbilanciarsi troppo. La pressione alta della Juventus sembrava dare subito buoni frutti e solo una giocata di queste lunghe, mal gestita dai giocatori di Pirlo, ha consentito all'Inter di passare in vantaggio e di conseguenza mettere la partita su binari ancora più favorevoli. Eppure la Juventus ha reagito, ha continuato a gestire palla con pazienza e precisione senza esasperare né forzare le giocate. Serviva tanta compostezza per evitare di andare ad ammassarsi negli ultimi 25-30 metri avversari, il pallone girava bene ed i movimenti venivano a venire incontro delle punte e favorivano gli inserimenti dei compagni. I ragazzi di Pirlo accorciavano costantemente su compagni ed avversari per una riaggressione davvero ben proposta. I palloni giocati sopra dall'Inter venivano sempre gestiti con padronanza dai centrali Juventini con marcature preventive sempre puntuali d'attente. Così si arrivava al pareggio ed addirittura al ribaltamento del risultato. Nella ripresa un Inter leggermente più intraprendente si ricordava di provare a sollecitare i punti deboli dell'avversario e cioè i cambi di gioco, lo sfruttamento dell'ampiezza e soprattutto cercava di farlo alzando il baricentro ed attraverso una manovra più avvolgente che vedeva coinvolto anche i bastoni quasi sempre in linea con i centrocampisti. Le punte provavano ad incrociare e semmai era sempre lo scarso ricorso ai cambi di fronte che stupiva negativamente con una manovra molto centrale che non causava grossi problemi di contenimento ai bianconeri che però rinunciavano ancora una volta come già accaduto a Marassi a giocare il pallone e gestire il possesso anche per liberare spazi facendo correre a vuoto gli avversari. Proprio come è avvenuto contro la Sampdoria sabato scorso il ricorso ai palloni lunghi diretti sulla punta e la frenesia nella ricerca della verticalizzazione finivano col concedere tanti possessi ai ragazzi di Conte i quali peraltro non li sfruttavano sempre a dovere. Anzi, i maggiori pericoli corsi dalla Juventus sono stati in occasione di due uscite dal basso con errori di controllo di Bentancur ed un lentissimo movimento ad andare a prendersi il pallone di Rabiot. Poi c'è stata anche un'unica occasione creata da Nerazzurri spostando palla da un lato all'altro con un bel lavoro in mezzo all'area di Sanchez che riusciva ad attirare su di sé tutti i difensori e avversari smarcando Darmian solissimo sul lato debole con l'esterno che però sparava addosso a Buffon da posizione favorevolissima. Nel finale cambio di assetto per Pirlo che aggiungeva Chiellini al pacchetto arretrato con l'Inter che non riusciva più a rendersi pericolosa questa sfida va vista nell'ottica dei 180 minuti quindi non è un risultato definitivo però ci si attendeva una squadra di Conte più aggressiva e meno preoccupata. Vediamo anche l'analisi dei tre gol 1-0 su un pallone profondo a cercare le punte Sanchez riusciva ad anticipare prima e deludere poi la marcatura di Demiral consentendo alle mezzalli di accorciare smistava il pallone su Barella che avanzava sulla destra dopo aver tagliato fuori Rabiot e Bernardeschi e con Alexandro molto fuori posizione quindi il centrocampista Sardo metteva in mezzo un pallone teso sul quale Martinez anticipava De Ligt che aveva comunque seguito bene l'avversario il tiro non sembrava niente di sconvolgente ma Buffon era incerto nell'intervento e mancando la presa col pallone che rotolava l'MLM oltre la linea di porta juventina 1-1 una manovra in transizione con palla ben mossa da un lato all'altro da parte dei bianconeri creava scompiglio nella retroguardia interista Quadrado ieri decisamente tra i migliori e più lucidi giocava un pallone preciso in mezzo dove c'era Alexandro pronto a raccoglierlo sfruttando proprio quel movimento ad accentrarsi che tanti danni ha causato nel primo tempo qui il brasiliano allargava ad attaccare l'ampiezza verso Bernardeschi che andava al cross al centro Young si faceva sorprendere alle spalle da Quadrado che gli rubava il tempo e lo tratteneva vistosamente un intervento tanto evidente quanto ingenuo visto che il traversone di Bernardeschi era del tutto fuori misura rigore e trasformazione con palla centrale ma sotto alla traversa di Ronaldo 1-2 su una pressione veramente feroce Juventina Defray andava ad un retropassaggio alla cieca verso Andanovic a questo punto Bastoni commetteva un grosso errore perché anziché lasciare il compagno che aveva una visuale frontale del campo libero di giocare il pallone gli si frapponeva e lo anticipava sbagliando tra l'altro il tocco allungandosi fatalmente il pallone Ronaldo era lestissimo ascippagli il possesso e depositava in rete a porta sguarnita un errore di mancata o sbagliata comunicazione tra i due entetisti che veniva punito dal portoghese con ospitatezza ed ecco quindi le grafiche le cinque grafiche elaborate da Pier Giorgio nella prima vediamo la pressione alta della Juventus sulla costruzione da basso coppie ben definite e Ronaldo a caccia della palla quindi come potete vedere Ronaldo è il giocatore quasi il vertice avanzato quindi non c'era in realtà una struttura di attacco a due con Kulusevski che infatti era praticamente dietro di lui perché schermava Brozovic questa è stata una situazione veramente chiarissima a guardare l'impostazione dell'Inter si vedeva chiaramente che Kulusevski seguiva seguiva Brozovic praticamente ad ogni passo ed è stato anche precisissimo in questo togliendo quella linea di passaggio per il resto come vedete gli unici sbocchi leggeri di campo per l'Inter erano sulle fasce ma poi ci sarebbero stati Alessandro e Quadrato c'erano Alessandro e Quadrato pronti ad intervenire nella seconda grafica vediamo la punta generalmente Kulusevski che viene incontro e così McKennie può fiondarsi in avanti e così si formano triangoli in questo caso per fare il secondo intermedio si alza Quadrato che da posizione di terzino va praticamente ad occupare uno spazio lasciato vuoto per fare appunto l'altro vertice di questo triangolo sono situazioni che abbiamo visto tante volte nella Juve di Pirlo di recente restano i due centrali dietro si abbassa Bentancur in mediana e si allinea tendenzialmente con i terzini che quindi si alzano e si vanno a formare questi triangoli se vogliamo la particolarità è che da un lato abbiamo un triangolo senza il terzino dall'altra parte con il terzino proprio perché Bentancur aveva il compito di stare a fare un altro triangolo se vogliamo con i difensori centrali perché è quello il ruolo di Bentancur di rendersi sempre disponibile per la prima uscita dalla difesa e poi Smith Star ieri è stato anche un po' così impreciso è stato un po' avventato in alcune scelte dopo aver ricevuto dai difensori però tendenzialmente il suo ruolo è quello se vogliamo possiamo notare da questa grafica il grande affollamento della linea difensiva dell'Inter che di fatto non ha consentito alla Juve di penetrare in area terza grafica presa di possesso del terzo offensivo da parte della Juventus gli esterni bassi si scambiano con quelli alti e l'opposto va ad attaccare il lato debole così siamo riusciti a procurarci il rigore le marcature preventive sulle due punte ad assorbire la giocata profonda dell'Inter funzionano bene perché l'Inter non ha profondità De Miral su questo è stato decisivo anche De Ligt perché hanno vinto i duelli l'assenza di Lukaku si è fatta sentire e forse Conte ha sbagliato nel riproporre comunque lo stesso piano tattico che ha proposto e che avrebbe proposto con Lukaku perché chiaramente non poteva funzionare alla stessa maniera quarta grafica se non ho perso il conto sì giocata ricercata di continuo dall'Inter nel primo tempo appunto come stavo dicendo palla dal braccetto all'esterno e quindi lancio a scavalcare ed attaccare la zona alle spalle della linea arretrata bianconera intanto le mezzale gli esterni vanno ad aggredire anche loro unica soluzione trovata da Conte per eludere la pressione alta bianconera che ha funzionato per esempio in occasione del gol perché eravamo proprio noi molto alti in possesso e sono venuti in verticale ma praticamente mai più perché soltanto in quell'occasione sono riusciti a rendersi particolarmente pericolosi poi le altre occasioni come dicevamo prima sono state concesse da una Juve praticamente schierata e abbassata un passaggio sbagliato di Buffon un errore di Rabiot e quell'errore soprattutto che poteva essere decisivo di Bentancur e per fortuna non lo è stato per il resto vedete comunque una Juve pronta a rifuggire all'indietro per coprire lo spazio alle spalle ultima grafica vediamo l'Inter proiettata in avanti nel secondo tempo cosa a cui appunto stavo accennando Bastoni in questo caso si affianca ai compagni di seconda linea e rimangono solo due centrali sempre bassi gli esterni entrano dentro e la Juve difende di posizione con le due linee arretrate corte e strette ed è una situazione in cui abbiamo passato gran parte del secondo tempo a soffrire un po' a vedere una Juve spinta all'indietro in questo caso vediamo tra l'altro nel finale che era entrato Morata con Kuluseski che stava ancora abbastanza alto più che altro perché c'era la possibilità di farlo visto che le nostre due linee riuscivano a chiudere bene gli spazi due linee tra l'altro molto vicine ed è stata secondo me questa la cosa decisiva perché non sono mai riusciti quelli dell'Inter tranne qualche errore tecnico nostro a venire praticamente a sollecitare direttamente la linea di difesa a ridosso dell'area di rigore grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti ripeto Pier Giorgio vi legge e vi risponde per qualsiasi vostra curiosità mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi approfondimenti di Tattica e tutti gli altri video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie